macro categoria imprese categoria HR il premio è HR team dell'anno bioingegneria andiamo a leggere subito la motivazione per essere la più grande azienda al mondo nell'ambito delle tecnologie mediche per contribuire costantemente al benessere umano applicando l'ingegneria biomedica alla ricerca alla progettazione alla produzione e alla distribuzione di strumenti o apparecchiature per alleviare il dolore ridare la salute e prolungare la vita il premio va a medtronic italia e ritira il premio alessandra maria sama HR director di metronica italia ben trovata alessandra ben trovati a voi intanto le chiedo subito un commento a caldo poi magari torniamo sulla motivazione per estrapolare le cose più importanti guardi sono molto contenta di ricevere questo premio a nome di tutta metronica italia e di tutti i colleghi che si impegnano ogni anno e ogni giorno per realizzare quello che lei ha poco fa citato che è un po la nostra mission quello di avere il paziente al centro e di migliorarne la salute e ridare speranza a tanti attraverso insomma le nostre apparecchiature biomedicali quindi siamo molto ben contenti grazie grazie naturalmente mi ricollego anche a quello che lei ci sta dicendo e soprattutto contestualizziamo questo premio nel periodo che abbiamo vissuto no chiaramente perché quando parliamo di eccellenze le eccellenze solitamente rimangono eccellenze ripeto questa parola nei momenti di sconforto e magari nei momenti più difficili visto che parliamo di sofferenza dolore c'è ancora più importante nel contesto del covid insomma per non girarci troppo intorno assolutamente sì noi devo dire che fin da quando iniziata la pandemia non ci siamo mai fermati nonostante il lockdown abbiamo continuato a servire pazienti ospedali abbiamo portato loro i nostri prodotti le nostre terapie e quindi il senso di responsabilità sociale è stato ancora più forte durante il periodo del lockdown quindi mai come in questo momento abbiamo sentito forte con questo senso di forte responsabilità e quindi siamo molto ben contenti di poter contribuire all'evoluzione e allo star meglio della nostra società quindi come guardare al futuro adesso per concludere ben sinceramente con grande ottimismo non possiamo che fare che fare così noi ci impegniamo ogni giorno per appunto migliorare la vita dei nostri pazienti attraverso le nostre tecnologie e quindi investiamo tantissimo nell'innovazione tecnologica nella qualità dei nostri prodotti quindi dobbiamo sicuramente essere ottimisti e fiduciosi nei confronti del futuro benissimo questo è il messaggio più giusto e più corretto quindi ringraziamo ringrazio ancora naturalmente Alessandra Maria Sama HR Director di Nettronica Italia e complimenti per questo premio grazie a voi grazie